La Coppa America arriva come un'occasione per sbloccare i finanziamenti dopo che la Regione aveva congelato i pagamenti per lo sforamento del patto di stabilità. Così il Sindaco De Magistris spiega la sua idea per Bagnoli. Nascerà un grande parco urbano di 130 ettari, il più grande della città, e una parte dell'area sarà dedicata all'edilizia sociale, con affitti agevolati per i giovani, coppie sposate e coppie di fatto. Il parco dello sport, il più grande parco urbano della città, 130 ettari, l'edilizia sociale, l'edilizia pubblica, il terziario, la piccola e media impresa, l'innovazione tecnologica, il mare, il turismo. Noi nei prossimi cinque anni vorremmo finalmente realizzare la Bagnoli del futuro che sarà una parte significativa della nostra città. Questa mattina il Consiglio Comunale si è riunito per una seduta interamente dedicata al futuro di Bagnoli. Il sindaco ha indicato all'Assemblea le priorità, il completamento della bonifica, la restituzione delle spiagge del mare ai cittadini, il potenziamento delle infrastrutture di collegamento, la cumana e la metropolitana, ma anche la tangenziale. Bagnoli, ha concluso De Magistris, ha potenzialità enormi che dobbiamo riempire di contenuti e non di speculazioni, perché è in causa lo sviluppo della città e del mezzogiorno.